Un saluto dal Tg della Mobilità, domenica nell'area del Foritalico dalle 5.30 alle 12 si svolgerà la ventitresima edizione della Corsa di Miguel, prevista la partecipazione di 5.400 atleti, prevista una gara competitiva da 10 km e una camminata di 3. Le strade interessate saranno i lungotevere Diaz, Cadorna della Vittoria e Oberdan, Ponte Risorgimento e poi ancora i lungotevere Flaminio e Town de Revelle, Ponte Milvio e Viale delle Olimpiadi. La gara competitiva terminerà nello Stadio Olimpico, la camminata non competitiva nello Stadio dei Marmi, previste deviazioni o limitazioni ai percorsi di 13 linee di bus. Per ora è tutto, appuntamento alla prossima edizione. Per ora è tutto, appuntamento alla prossima.